Musica Ben ritrovati con l'informazione di RTC Quartarete. Un incendio causato da un incidente domestico ha interessato l'abitazione del primo cittadino Vincenzo Servalli. Il figlio maggiore del sindaco ha riportato le viustioni alle gambe. Momenti di paura stamane in via Papa Giovanni XXIII, angolo via Sabato Martelli Castaldi. Poco prima delle nove si è verificato un incidente domestico nell'abitazione del sindaco Vincenzo Servalli che ha provocato l'incendio di un divano e la propagazione in una delle stanze dell'appartamento. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, il ruogo si sarebbe sviluppato da un phon lasciato acceso sul divano. In quel momento erano presenti la moglie ed il figlio maggiore, che ha riportato una piccola ustione sulla gamba, medicata presso il pronto soccorso dell'ospedale cittadino. Prontamente allertati, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento città di Salerno. I sanitari del 118, gli agenti della Polizia di Stato, i carabinieri, la Polizia Locale, la Protezione Civile e gli operatori della Metellia Servizi. Tantissimi attestati di solidarietà che sono giunti al primo cittadino Vincenzo Servalli, il quale con una nota di ramata immattinata ha voluto ringraziare tutti coloro che sono prontamente intervenuti e che gli hanno dimostrato vicinanza e solidarietà per l'accaduto. La redazione di RTC Quartarete esprime solidarietà al sindaco Vincenzo Servalli e alla sua famiglia per quanto accaduto. E passiamo alla prossima notizia. Operazione della Guardia di Finanza questa mattina nel Cilento. Cinque arresti, perquisizioni e sequestri per bancarutta fraudolenta. Allora questo, come tanto per queste qua, c'è il gestice di mia figlia che è imparito. La partire nella parola napoletana, come il Zincare, fa giusto. Allora io prima ero pulitissimo a queste cose. E se come si è in questo caso, io basti vuoi pulire. Maxi sequestro in un'associazione del Cilento. La Guardia di Finanza di Salerno ha eseguito un'ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal GIP presso il Tribunale di Vallo della Lucania su richiesta della locale Procura della Repubblica nei confronti di cinque persone indagate a vario titolo per i reati di associazioni a delinquere, bancarotta fraudolenta, impiego di beni o utilità di provenienza illecita, intestazione fittizia e corruzione per atti ai doveri d'ufficio. Per tre degli arresti è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Per gli altri due sono scattati gli arresti domiciliari. L'autorità giudiziaria ha disposto anche il sequestro preventivo di 59 fabbricati, 37 terreni e un intero impianto riproduzione di calcestruzzo e relative betoniere per un valore complessivo superiore a 10 milioni di euro. E ci spostiamo a Pagani. Dopo che nelle settimane scorse è stato dichiarato decaduto dalla carica di sindaco Alberico Gambini, la prefettura ha comunicato che è stato avviato l'iter per lo scioglimento del Consiglio Comunale di Pagani. La normativa prevede che a seguito della pronuncia di scioglimento del Consiglio Comunale, il Consiglio e l'Aggiunta rimangono in carica fino alle elezioni amministrative, che avverranno nella prossima primavera, e le funzioni di sindaco saranno svolte dal vice sindaco. Invocano la protezione di Santa Barbara i lavoratori, il sindacato e le imprese del cantiere di Porta Ovest. Il cantiere apre mercoledì 4 dicembre, in concomitanza con i festeggiamenti della patrona dei Vigili del Fuoco e della Capitaneria di Porto. Invocano la protezione di Santa Barbara i lavoratori, i sindacati e le imprese del cantiere di Porta Ovest. Con i lavori ripresi da poco nella parte superiore relativa all'aria nei pressi del Cernicchiara, il cantiere apre mercoledì 4 dicembre ai festeggiamenti della patrona dai Vigili del Fuoco e della Capitaneria di Porto. Ad organizzare la cerimonia, l'autorità portuale di Salerno, l'ente appaltante dell'intervento, per la realizzazione di una doppia galleria di collegamento tra lo scalo commerciale di Salerno e lo svincolo autostradale. Ci sarà anche il Consorzio Stabile Arechi, il gruppo di imprese che ha rilevato l'intervento dalla Tecnis, l'impresa che aveva vinto l'appalto ma poi ha avuto una serie di difficoltà a completarlo, tra cui un'inchiesta giudiziaria e il fallimento. Nel programma è inserita anche una cerimonia di premiazione per i caschi rossi. La speranza è che la benedizione sia utile a fare in modo che il lavoro possa proseguire senza ulteriori intoppi. Subito dopo gli scavi, infatti, un'inchiesta giudiziaria blocca il cantiere, fermo anche per un contenzioso tra autorità portuale ed autostrade meridionali. Il cantiere poi è sempre stato visto con preoccupazione dai residenti di Canalone, la frazione collinare di Salerno, che poggia proprio sul costone roccioso. La ripresa dei lavori è collegata anche alla necessità di mettere in sicurezza l'intera area dopo lo scavo delle due gallerie, poi rimaste ferme. Il consorzio stabile a Rechi si sta occupando della progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell'esecuzione stessa dei lavori. E dopo alcuni giorni di disagi, è stata riaperta completamente al traffico via Benedetto Croce, il tratto della statale tra Salerno e Vietri sul mare, interessato nei giorni scorsi dal distacco di pietre dal costone roccioso. Nella notte in patti, i blocchi di cemento che delimitavano la carreggiata di una corsia sono stati rimossi ed è stata installata una recinzione contenitiva. Intanto a Cetara, la caduta di un albero sulla sede stradale, ha provocato il blocco del traffico veicolare sulla strada statale 163 a Malpitana, con lunghe cote formatesi in entrambe le direzioni. Per fortuna, nessun veicolo o persone coinvolti. Terminata anche a Mercato Sanseverino, la sesta edizione di Libriamoci, il progetto nazionale promosso dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che ha posto al centro dell'istruzione la lettura. Terminata con successo la sesta edizione di Libriamoci, il progetto nazionale promosso dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che dall'11 al 16 novembre 2019 ha posto al centro dell'istruzione la lettura. Libriamoci rappresenta uno stretto alleato di un'altra bella iniziativa, Io Leggo Perché, la campagna nazionale organizzata dall'Associazione Italiana Editori, che consente ai cittadini di donare libri alle biblioteche scolastiche, che al termine della raccolta li ricevono dalle librerie con le quali si sono gemellate. Libriamoci e Io Leggo Perché operano in sinergia per dare corpo e voce al piacere della lettura. Tante le scuole e gli studenti coinvolti nell'iniziativa, le nostre telecamere hanno visitato per l'occasione il secondo circolo di Mercato San Severino, Plesso Sant'Angelo, dove i ragazzi della scuola primaria hanno dato forma alla settimana dedicata alla ricchezza che solo i libri sanno regalare. È stata l'occasione per i ragazzi delle classi quinte del secondo circolo di vivere un momento laboratoriale basato, improntato sulla lettura. Ogni occasione è propizia per diffondere la cultura della lettura, perché anche questo nel mondo moderno non è molto semplice e le occasioni che vengono proposte si devono cogliere e diffondere, perché è un modo diverso per veicolare l'amore per la lettura. Siamo in un mondo in cui le sollecitazioni sono tantissime. Se pensiamo a pure 70 anni fa, diciamo che tutto veniva scoperto attraverso un libro e quindi la curiosità per il ragazzo era più semplice, interessarli, emozionarli attraverso un libro. Oggi dove c'è la televisione, ci sono i computer, ci sono i network, i ragazzi trovano, come dire, impulso immediato ad avvicinarsi alle nuove tecnologie, ai social piuttosto che al libro. Quindi le iniziative proposte da Libriamoci o anche altre iniziative che promuovono appunto la lettura vanno sempre colte e portate all'interno della scuola. Stamattina con gli esperti di Libriamoci, qui con me e la carissima Clotilde Grisolia, abbiamo avuto appunto la possibilità di vivere un momento coinvolgente per i bambini e questo va sempre fatto in modo da emozionarli. Parte integrante del progetto, l'associazione culturale Oltre il Teatro, che rafforza il suo legame con il mondo scolastico in nome della formazione intellettuale e spirituale dei più piccoli. Questa è la settimana del Libriamoci, dove è onorata la lettura ad alta voce. Oggi si è un po' persa questa lettura soprattutto ad alta voce, quindi il recupero dello stare insieme, dell'unire varie classi per leggere è un rito sacro che forse andrebbe onorato non soltanto una volta all'anno ma magari ripetuto. Il secondo circolo di Mercato Sanseverino e la dirigente accoglie sempre con immenso piacere quelle che sono le nostre attività come Oltre il Teatro ed è sempre un piacere ritornare perché ormai con i bambini lavoriamo in maniera estemporanea e la loro creatività si incontra con la nostra e con quella delle maestre e nasce la magia. Oggi siamo qui per affrontare la tematica di salvare il pianeta e leggendo possiamo salvare il pianeta? Io credo di sì. Io penso che se questi ragazzi oggi tornano a casa con una riflessione e ripartono sulla concezione di che cosa significa salvare il pianeta anche solo avendo letto e avendo riflettuto su quelli che sono gli argomenti di cui oggi abbiamo parlato allora vuol dire che il semino è stato gettato e crescerà nel tempo e lo vedrà non solo Mercato Sanseverino ma tutto il territorio e tutta l'Italia e il mondo perché noi creiamo teste pensanti, noi abbiamo a che fare con il futuro di domani e questo è il modo di lavorare, scuole, associazioni, istituzioni insieme per creare veramente un mondo migliore. Il piano di zona ambito S2 ha reso noto che ha preso il via presso la School of International Studies di Cava dei Tirreni il corso di lingua inglese a favore dei beneficiari del reddito di inclusione e reddito di cittadinanza. La formazione della durata complessiva di 100 ore avrà una frequenza di 3 volte a settimana suddivise in 4 ore con un docente di lingua madre e 2 ore di grammatica inglese. L'opportunità formativa è di grande rilievo, ha sottolineato Antolena Garofalo assessore alle politiche sociali del comune di Cava dei Tirreni. I fruitori impatti potranno accrescere le conoscenze linguistiche ed implementare il curriculum così da essere competitivi sul mercato del lavoro. E apriamo adesso la nostra pagina dello sport. La Cavesi è multata per un ritardo nella presentazione del documento per fruire dello stadio menti. I metelliani precisano. Dovevamo aspettare l'ok degli organi preposti. Sette giorni di ritardo costano una multa. Come ha reso noto la Federazione Italiana Gioco Calcio, la Cavesi ha patteggiato con la Procura Federale una sanzione pecuniaria pari a poco meno di 6.700 euro perché i metelliani non erano riusciti a presentare entro il termine perentorio del 17 giugno il nulla osta del prefetto in riferimento all'istanza di deroga a svolgere l'attività sportiva 2019-2020 presso lo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia. Sono riusciti a depositarla solo il 24 giugno con sette giorni di ritardo. Oltre alla multa è stata fatta un'inibizione di 14 giorni al presidente e amministratore unico della società Massimiliano Santoriello. Anche tale sanzione è stata patteggiata con la Procura, come previsto dall'articolo 126 del Codice di Giustizia Sportiva. Ci si chiede se sarebbe stato possibile muoversi prima, evitando dunque una sanzione che sarebbe potuta diventare ancora più pesante se la Cavese non avesse scelto il patteggiamento, perché presentare il documento del nulla osta era comunque un'incombenza della società di calcio. Ma la stessa Cavese, da parte sua, ha precisato. Nonostante gli sforzi e la celerità della società, non è stato possibile espletare tale adempimento entro la prima data di scadenza, avendo dovuto attendere le risposte degli enti preposti, per avere la disponibilità del menti. In buona sostanza, i meteliani attribuiscono alla lungaggine burocratica l'impossibilità di consegnare prima il nulla osta del prefetto napoletano. Così la Cavese ha 30 giorni di tempo per ottemperare al pagamento della multa di 6.700 euro ed evitare la continuazione del procedimento. I meteliani, allenati da Salvatore Campilongo, affronteranno il Bisceglie domenica. Sarà la gara che potrà segnare, in caso di vittoria, una svolta, perché dopo i biancoblu avranno da affrontare la Virtus Francavilla, la Ternana e la Zeta Picerno. In particolare, affrontare la trasferta di Francavilla-Fontana con 23 punti sarebbe meglio che recarsi lì rimanendo a quota 20 dopo 17 partite. Domani sera, alle ore 18.30, presso il Palazzo di Città di Cava dei Tirreni, il giornalista Fabrizio Prisco presenterà il suo nuovo libro intitolato 100% Cavese, edito Area Blu, libro che include racconti e interviste dei tanti protagonisti della storia centenaria della Cavese. Prefazione di Mauro Senatore, postfazione dei tifosi della Curva Sud Capello Mari. Il ricavato della vendita andrà in beneficenza al Comitato per il Costituendo Museo di Mamma Lucia e all'Associazione La Nostra Famiglia. E chiudiamo con il Cavalli United, agganciato in testa al girone H della seconda categoria campana dal Vietri Raito. Tutte e due le squadre sono appaiate al primo posto a 16 punti. Al campo sportivo 23 giugno 78 di Ponte Cagnano-Faiano, si sono decise in questi giorni le gerarchie parziali ai vertici del campionato di seconda categoria girone H. Domenica il Cavalli United del mister Longino si è dovuto accontentare dello 0-0 con la polisportiva Etruria, una compagine che ha confermato quanto di buono si diceva sul suo conto. E ieri, nella partita di recupero sullo stesso campo di Ponte Cagnano, il Vietri Raito è andato a vincere per 2-0 sul Castel Vernieri. Ora tutte e due le squadre, lo United e il Vietri Raito, comandano il girone H con 16 punti in sei partite giocate e di questo passo saranno loro due a contendersi il primato. Lo scontro diretto, tra l'altro, non è lontanissimo. Si giocherà a Vietri l'8 dicembre. Quella che il Cavalli United ha pareggiato domenica a Ponte Cagnano è stata comunque una partita molto fisica e lo 0-0 finale soddisfa moltissimo i padroni di casa che avevano concluso la gara in 9. Lo United, tra l'altro, in questi giorni ha festeggiato 5 anni, un lustro dalla sua prima partita ufficiale che risaliva al novembre 2014 nel campionato di terza categoria. E adesso la società del presidente Alfieri è ai vertici in seconda categoria. Sempre in seconda categoria, il Cava 2000 ha strappato il pareggio per 1-1 a Giffoni 6 Casali, dove ha giocato ieri la sua partita di recupero. Era fondamentale fare punti in trasferta per i biancoverdi dopo che avevano perduto per 2-3 a San Pietro con il Bracigliano. Cava 2000 ultimo a 4 punti insieme al guido cuore di Rocca. Nel prossimo weekend il Cava United affronterà la Real Filetta Pezzano e la gara si giocherà sabato a Pregiato alle ore 14.30. Il Cava 2000 sarà domenica a Ponte Cagnano per affrontare il Castelvernieri, reduce dal K.O. Casalingo proprio con il Vietri Raito. La gara inizierà alle 11.30. E questa era la nostra ultima notizia, grazie per averci seguito e vi do appuntamento alle prossime edizioni del Tg di RTC Quarta Rete.